Io sinceramente mi trovo come uno che finalmente respira quando sono qua, io sto bene, finalmente mi sembra di stare in famiglia, dove cammini cammini vedi gente che è bello, è bello, sognavo questo momento finalmente, noi veniamo dalle marche, abbiamo parlato con i nostri eletti, i nostri ragazzi, sia senatori che parlamentari, è stato bellissimo, poterli chiedere qualsiasi cosa, dalle cose più serie alle cose più frivole, scambiare le opinioni con loro, parlare anche con gli attivisti che magari hanno visto solo sul web o che non conoscevano per niente, è bello, è un bel momento. Cosa è questa scritta? Questo è Hangout Revolution Night, è una web tv che fa trasmissioni in streaming, Hangout con i nostri portavoce quando vanno a fare le agora in tutta Italia e poi facciamo trasmissioni settimanali con i portavoce, con altri ospiti e siamo qui a coprire come fate voi l'evento e quindi a produrre contenuti e spesso i contenuti quando facciamo delle interviste vengono brandizzati e poi vengono anche passati dal canale M5S e Parlamento su YouTube, quindi piena collaborazione. Siamo qui a dimostrare che le televisioni sono tutte lì con tutti i loro camion e un sacco di costi per i cittadini e poi non vengono, neanche uno viene a riprendere i portavoce che stanno insieme ai cittadini a sentire le istanze e sono tutti lì ad aspettare una gaffa di qualcuno sul palco e sono veramente inutili e sono il passato perché noi facendo lo streaming, facendo questa informazione diretta bypasseremo tutto quello che fanno loro. È stato bello vedere chiunque passasse questo pool di telecamere che era una forma quasi indefinita perché si connettevano e si agganciavano una con l'altra e seguivano in maniera uniforme ma solo per quel momento perché quello è il momento più prestigioso per loro, più interessante. Ma basta mandare un pochettino più là dove c'è quel ammasso di persone e lì ci sono parlamentari che da stamattina incontrano le persone e parlano dei vari tempi di economia, di commercio, di salute, di tutto. Ma parlano direttamente con i cittadini, i cittadini domandano, loro rispondono ma possono anche contestare, provocare o magari anche ringraziarli o apprezzarli. Là c'è il rapporto diretto.